Riprendono i blocchi dei facchini ai cancelli di Lemose e i Cobas assicurano non entrano neanche i lavoratori di Ikea. A scatenare la protesta sono i 12 lavoratori sospesi, ci aspettavamo, dicono i Cobas, un provvedimento disciplinare ma non è arrivato e ovviamente loro non sono stati reintegrati al lavoro. Noi abbiamo seguito tutte le prassi dal punto di vista che impone quando ci sono delle sospensioni, siamo andati in commissione a rispondere rispetto al motivo della sospensione, ci aspettavamo un provvedimento disciplinare perché se uno fa una sospensione ci sarà un motivo perché ha fatto la sospensione. Siccome non arrivano neanche i provvedimenti disciplinari, l'unico provvedimento è quello di tenerli qui fuori per dei mesi senza dirgli niente perché li tengono fuori e chiaro vogliamo far rilevare questo aspetto di illegalità. Dall'altro lato siccome i tempi lunghi della giustizia sappiamo quello che sono, oggi veniamo qui a bloccare perché se non serve quella che dovrebbe essere la giustizia dal punto di vista diciamo dello Stato eccetera, cerchiamo di farla rispettare attraverso anche degli alti di sciopero come stiamo facendo eccetera. Oggi tra l'altro a differenza degli altri giorni non entrano neanche i lavoratori dell'IKEA. Altro problema è la cassa integrazione, come fanno domanda Nicobas a farla fare a una ditta che ha gli straordinari? C'è la domanda che pongono ai partiti politici, al sindaco che ha detto che eccetera, al comune, alle commissioni e anche all'ispettorato del lavoro perché dovrebbero controllare queste cose. Come si fa a concedere all'IMSS, come si fa a concedere alla cassa integrazione a una ditta che ha un surplus di lavoro in questo momento?